buongiorno a tutti ed eccomi qui salire le scale del cantiere di volpago questo è tutto lattico ed è tutta la vista che godrà guardate che posizione spettacolare fosse anche solo per il fatto che tutto quello che voi vedete in questo momento è la platea dell'appartamento eccomi qua intrufolata in questo cantiere che ho piacere di farvi vedere che prosegue veramente a un ritmo veloce e di questo ne siamo veramente contenti e ringrazio ovviamente gli operai che stanno lavorando in modo molto assiduo per questo immobile allora qui è lattico sono attorno ai 200 metri quadri di planimetria solo di appartamento mentre 160 di terrazzo la vista come vedete è diretta sul montello non c'è nessuno ovviamente che vi guarderà dentro che dire se siete interessati e volete saperne qualcosa in più in merito a questo attico potete visionare il mio sito che è www.ireneemerlo.it lì troverete nella sezione immobili gli appartamenti e anche questo attico in particolar modo dove c'è anche un video che avevo inserito proprio all'inizio per far vedere come è questo immobile ma come sarà la realtà in quanto esistono altri immobili simili già finiti dall'impresa anzi dal mm corporate ma è che dire io adesso me ne scendo perché vestita di rosso non sto passando in osservata e vi lascio ovviamente con un caro saluto e se vendi casa dal 2022 vendi casa con me